Il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria. In quella data, nel 1945, l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz. Il Consiglio regionale ha programmato numerose iniziative per fare quello che la Toscana ha sempre fatto, non voltarsi dall'altra parte. Nella mattinata, al meeting della memoria al Teatro La Compagnia di Firenze, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha evidenziato l'importanza di non dimenticare. Il nostro compito, il compito delle istituzioni, è quello ancora di più oggi di essere amplificatori di memoria, di non girarci dall'altra parte, di mandare un messaggio forte alle ragazze, ragazze, studentesse, gli studenti. Ognuno di noi può fare la nostra parte e la può fare non essendo indifferente, non voltandosi dall'altra parte. Lo può fare provando a approfondire e raccontare la violenza della Shoah, perché quello che è accaduto non accada mai più. E questo è un impegno forte che assumiamo tutti noi che siamo impegnati nelle istituzioni. E credo che oggi, questa giornata, dia il senso di quella che è la Toscana. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. La Toscana è una terra che è sempre stata dalla parte giusta della storia. La Toscana è una terra che non ha dimenticato, non dimentica e non dimenticherà mai le violenze terribili di quel tempo. Il presidente Mazzeo ha continuato il suo intervento dal palco ricordando la seduta solenne dell'Assemblea Legislativa. Nel pomeriggio, infatti, ha avuto luogo un'iniziativa al Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, un luogo simbolo dell'efferatezza del nazifascismo. Presenti in sala, al Teatro della Compagnia di Firenze, le testimoni dirette della Shoah, Tatiana Bucci e Lidia Maximovic, che erano bambine quando furono portate nei lager nazisti. Viviamo in una regione, in una terra, che affonda con orgoglio i propri radici nei valori dell'antifascismo e della resistenza. Siamo la regione che ha scelto come simbolo il Pegasolato, che fu del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Siamo anche la regione dove ci fu la macchia più vergognosa della nostra storia, la firma delle leggi razziali a Pisa, a San Rossore, in Toscana. Ecco, oggi ricordare, fare memoria, significa soprattutto capire che dietro ogni guerra si nasconde un orrore, capire che non possiamo voltarci dall'altra parte, ma dobbiamo continuare ad essere partigiane e partigiani e scegliere da che parte stare di fronte alle discriminazioni e alle disuguaglianze che ancora oggi persistono nel mondo. Persone, donne, uomini, bambine e bambini vengono discriminate per la propria fede religiosa, per il proprio pensiero politico, per il colore della propria pelle, per la loro provenienza, per il loro orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Ecco, di fronte a tutto questo, la memoria è l'unico antidoto contro l'indifferenza. In un giorno così importante, quello dedicato alla memoria, che cosa si chiede ai giovani toscani? Sì, il giorno della memoria ricorda il giorno in cui Auschwitz venne liberata, era il 27 gennaio 1945. Ma da dove è iniziato tutto? È iniziato tutto una mattina, un lunedì mattina, era il 5 settembre del 1938, quando il re d'Italia firmò il primo atto con cui studenti e docenti ebrei venivano cacciati dalle scuole. Ma dove lo firmò quel atto? Lo firmò proprio a Pisa, nella nostra Toscana, mentre era a caccia. Questa è la storia scritta in Toscana nel 1938. Quello che chiediamo oggi, nel giorno della memoria, ai giovani toscani è qual è la storia che voi volete leggere fra cento anni della nostra generazione? Cioè 27 gennaio 2023, cosa fanno i giovani toscani? Si girano dall'altra parte di fronte alle difficoltà che hanno giovani in Italia, ma giovani nel mondo. Pensiamo ai giovani ucraini che scappano dalle bombe, pensiamo alle giovani iraniane, alle giovani afghane. Ecco, la lezione di Auschwitz ci ha insegnato che se esiste un problema di un essere umano innocente, quel problema, se noi non ce ne occupiamo, riguarderà anche noi stessi. Ed è per questo che oggi non è solo memoria del passato, ma impegno costante per un presente che sia migliore di quello che abbiamo trovato. Inaugurata al centro Expo Ciampi, al Palazzo del Pegaso di Firenze, la mostra Attorno alla Shoah, Fotografie e Memoria, per non dimenticare la tragedia dell'Holocausto. Una mostra che ricorda la giornata della memoria e che pone al centro le persone colte nella loro vita quotidiana, quella ordinaria che la Shoah distrusse irreparabilmente. Una tra le mostre più importanti che ospitiamo qui in Palazzo del Pegaso è un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte. E attraverso le immagini splendide della Fondazione Alinari raccontiamo prima e dopo la Shoah, raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato e poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. Ricordare che quelle morti sono state vite prima, che quella disgrazia è stata prima una festa, è stata volti di bambine, è stata pratica di vita, è stato lavoro quotidiano, credo che sia fondamentale perché altrimenti noi davvero rischiamo di celebrare un santino della tragedia, un santino della Shoah e non percepire più la vita che si percepisce benissimo andando a vedere quei luoghi. La mostra, curata da Paola Zamboni, raccoglie le suggestive foto realizzate da Riccardo Camerini, Vincenzo Balocchi, Luigi Leoni, Walter Genevine e di altri autori, alcuni non identificati. La scelta di questa mostra, che espone le foto che precedono e seguono la Shoah, è una scelta di grande significato. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi, ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo, è secondo me un modo per rispettare anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. Le foto dedicate ai bambini sono immagini forti e diventano un modo diverso per ricordare questa tragedia. La cosa che mi ha colpito è la sala dedicata ai bambini. La forza di questa sala è veramente impressionante e aver messo insieme nel dramma il sorriso dei bambini dà appunto un'idea diversa da quella che siamo soliti ricordare per questa giornata, per questo periodo. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. Queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile a tutti. La mostra è visitabile fino al 4 febbraio con il seguente orario, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13. Il bilancio di ARPAT è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 gennaio. L'Aula ha infatti dato il via libera a maggioranza al bilancio di esercizio 2021, il 27esimo dell'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana, con 21 voti favorevoli e 12 contrari. Come ha spiegato la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, del PD, illustrando l'atto all'Aula, ARPAT registra un valore della produzione di 52 milioni e 874 mila euro, perfettamente in linea con la previsione, con una riduzione di oltre un milione e mezzo di euro rispetto al 2020, meno 2,9%. Alessandro Capecchi spiega il voto contrario di Fratelli d'Italia. Sì, innanzitutto sui tempi si fa il bilancio consuntivo 2021 nel 2023, quindi questo è sintomatico di un malfunzionamento delle procedure interne, ma soprattutto il Direttore Generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'Agenzia si era posta di raggiungere nel 2021, fra cui molti controlli ambientali, le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale, tutti obiettivi che nel 2009 erano stati identificati dalla legge 30 come obiettivi fondamentali dell'Agenzia. In più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la Regione per l'80% richiede la restituzione, anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda ed è soprattutto l'assunzione di nuovo personale. Marco Landi della Lega evidenza il calo di Arpat che riguarda tutti i settori di attività. I dati che abbiamo letto sono di un calo generale su tutti i settori dell'attività, da quello del monitoraggio delle acque a quello delle bonifiche, sono dei cali molto importanti, percentuali, che vanno ben oltre il 30% di media, quindi noi crediamo che il tipo di attività che Arpat ha svolto non è sufficiente, ma questo lo dice il bilancio stesso, un utile di 3 milioni e mezzo chiaramente ci fa capire che quei soldi non sono stati spesi perché evidentemente tante attività non sono state fatte. Quindi noi crediamo che Arpat svolga un ruolo importante e fondamentale per la nostra Regione, per i cittadini, per la tutela ambientale dei nostri territori, però crediamo anche che nel metodo e soprattutto nell'organizzazione, e lo abbiamo visto appunto sulla problematica che Arpat ha sul personale, in questi dieci anni nulla è stato fatto per risolvere una problematica importante per avere più persone a disposizione con qualifiche tecniche per svolgere le adeguate verifiche. Francesco Gazzetti del Partito Democratico, nello spiegare il voto favorevole, sottolinea il ruolo fondamentale di Arpat anche nello sviluppo dell'inchiesta Cheu. È un bilancio ovviamente che noi abbiamo votato convintamente, abbiamo visto invece il voto contrario delle opposizioni che spesso e volentieri evidenziano la necessità di potenziare, di supportare le attività di Arpat, e quando poi c'è da votare il bilancio, poi periodicamente assumono un atteggiamento che per ipotesi e per portare all'estremo un ragionamento, se noi dessimo seguito all'atteggiamento delle opposizioni, Arpat dovrebbe chiudere. Noi invece vogliamo che Arpat continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre. In alcune vicende, ad esempio quella del Cheu, io ho ricordato in aula, noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di Arpat e della regione toscana, l'avvio di una serie di approfondimenti e quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che Arpat svolge. Da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio che è stato sottoscritto come prima firmataria dalla Presidente De Robertis nella quale noi ovviamente andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con Arpat un potenziamento anche del personale a seguito anche di una serie di elementi che sono emersi proprio in commissione. Opposta, in merito ai controlli di Arpat nell'ambito della vicenda Cheu, la posizione di Fratelli d'Italia. Sì, Arpat già nel 2021 era stata chiamata ad occuparsi di questa vicenda e quindi noi non abbiamo votato l'ordine del giorno del PD che chiedeva su questo fronte impegno perché di fatto l'azienda, l'agenzia doveva già farlo nel 2021. Ma soprattutto noi poniamo l'accento sulla mancata realizzazione delle bonifiche. Quindi l'occasione è stata anche quella di sollecitare la maggioranza, soprattutto la Giunta, a intervenire tempestivamente al di là delle questioni burocratiche per riportare un segnale per i nostri concittadini che la Toscana ha una terra libera e pulita. Manca poco alla terza edizione del forum Repower Chianti, Energie per il futuro, che si svolgerà il 3 febbraio alle cantine antinori a San Casciano Valdipesa, in località Bargino. La presentazione ha avuto luogo al Mediacentro Sassoli a Palazzo del Pegaso a Firenze. All'interno dell'iniziativa del forum verranno assegnati anche i premi Chianti Tesi per tesi di laurea volte a sostenere, analizzare e valorizzare lo sviluppo delle economie locali. Io sono davvero orgoglioso di poter presentare questa importante iniziativa oggi qui in Consiglio regionale. Energie per il futuro, Repower Chianti. È un modo per dire che il futuro si vuole costruire partendo dai territori, mettendo le migliori esperienze a disposizione di tutto questo. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso oppure lo subiamo. È bello che in quell'occasione saranno premiate anche le migliori quattro tesi riguardo queste tematiche e sono contento che tante ragazze e tanti ragazzi abbiano dato il loro contributo nel ridisegno di un territorio. Obiettivo del Chianti Economic Forum, che si terrà nel pomeriggio del 3 febbraio alla Cantina Antinori, nel Chianti Classico, è portare il dibattito riguardante la transizione verde sul piano locale. Importantissime in tal senso le occasioni di dialogo e riflessioni comuni e quanto più possibile partecipate dalle compagini sociali presenti sul territorio. Questa è la mission del Chianti Economic Forum, associazione senza scopo di lucro. Il nostro obiettivo sarà quello di presentare tante idee sul sviluppo delle economie locali e dare una visione di una transizione verde che potrà essere fondamentale per guardare al futuro ma soprattutto essere concreti in questo presente da oggi. Le iniziative promosse dal Chianti Economic Forum si stanno sviluppando in questi anni in modo sempre più importante e coinvolgendo sempre di più i giovani. È un'iniziativa che va avanti da alcuni anni in maniera sempre più solida dentro il nostro territorio. È molto bella perché ci sono dei giovani appassionati, studiosi e organizzatori che si occupano del Chianti, cioè di questa terra che è anche un simbolo per la Toscana, ma guardando sempre oltre il Chianti. Lo si vede anche dagli eventi che vengono fatti, anche dal luogo dove vengono fatti, che sono le cantine antinori, quest'anno sono state anche premiate come miglior cantina del mondo. Il territorio come i Chianti si candida con le sue istituzioni a essere un piccolo esempio di quello che può essere lo sviluppo locale dentro il quadro di sostenibilità globale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!